Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Gwenda Goria ha annunciato con grande gioia di essere diventata mamma. La gravidanza, rivelata durante il programma La Volta Buona insieme al marito Mirko Gancitano, è stata vista come un vero e proprio miracolo dalla coppia. Nel 2022, l'ex concorrente del grande fratello Vip ha subito un intervento chirurgico per la rimozione di una tuba a causa di una gravidanza extrauterina. Oggi, sorride accanto al marito e alla loro famiglia, celebrando la nascita del loro figlio Noah. La neononna Maria Teresa Ruta ha espresso la sua felicità, condividendo, una nuova vita, la nostra gioia più grande e arrivato Noah nelle sue stories. Dopo il dramma della gravidanza extrauterina, Gwenda ha raccontato di come fosse un miracolo essere riuscita a rimanere incinta. Ha confessato, mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli, sono tre anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio. Perché l'ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo. Gwenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati lo scorso maggio e ora sono pronti per iniziare questa nuova avventura come genitori. Tutti noi facciamo i migliori auguri ai neogenitori. Lasciate un messaggio di auguri anche voi qui sotto nei commenti.